Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. Apriamo questa edizione con la cronaca. Arrestate 5 persone a Torre del Greco per compravendita di voti alle elezioni amministrative del 2018 in cambio di genere alimentari, denaro e promesse di posti di lavoro. Coinvolto anche un consigliere comunale. Nel Napoletano invece sequestrati 6 quintali di sigarette di contrabbando, 4 sono i soggetti tratti in arresto. Continuano a salire i casi di contagio da Covid-19, ma dati in aumento per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. 282 mila nelle ultime 24 ore in Italia. Arrivano anche i primi numeri dalla campagna vaccinale a Torre del Greco. Ci avviciniamo alla Santa Pasqua, la seconda dell'era Covid. Abbiamo ascoltato i cittadini di Torre del Greco, tra malcontenti e speranza. Infine spazio allo sport con la Turris che domani affronterà il Teramo. I corallini cercano la vittoria dopo il pareggio in casa contro il Catanzaro. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Genere alimentari, denaro e promesse di posti di lavoro in cambio di voti. Tornano a far parlare le elezioni comunali del giugno 2018 a Torre del Greco. Un'indagine che già aveva condotto all'arresto di diversi soggetti facenti parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato consigliere comunale Stefano Abilitato, poi risultato eletto, in relazione alla quale sono già intervenute alcune sentenze di condanna. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito una nuova ordinanza emessa dal GIP di Torre Annunziata nei confronti di cinque soggetti, tra i quali un consigliere comunale, tutti gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere mediante la sistematica compravendita di voti in occasione delle amministrative di tre anni fa nel comune Corallino. Le indagini, infatti, hanno consentito di accertare l'esistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato Mario Buono, successivamente eletto, e della relativa lista civica Forza Torre, da un numero indeterminato di elettori, in cambio di genere alimentari e d'azioni di denaro, ovvero di offerte e promesse di posti di lavoro, nell'ambito dei progetti regionali denominati Garanzia Giovani e Fila. Anche in questo caso, così come accertato per la precedente ordinanza cautelare, un ruolo centrale è risultato essere stato ricoperto dal commercialista Simone Magliacano, che, come emerso dalle indagini, era in grado di creare diverse reti di complicità e collusioni per la compravendita dei voti. Tra i destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre Magliacano e al consigliere comunale Buono, ci sono Genaro Savastano e Vincenzo Izzo, che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, si sarebbero occupati della compravendita dei voti, con offerte di denaro e genere alimentari ai cittadini torresi. Izzo, durante la stessa campagna elettorale del 2018, si è inoltre reso protagonista di un'aggressione ai danni di abilitato, al fine di impedirgli il libero esercizio dei diritti politici, e in particolare per ostacolarne l'attività di campagna elettorale in uno dei quartieri di Torre del Greco, vicenda per la quale è in corso di celebrazione un processo al Tribunale di Torre Annunziata, nel quale Izzo è imputato. La misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Torre del Greco è stata emessa nei confronti di Gianluca Melluso, anche egli incaricato della compravendita dei voti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto nel quartiere Barra del Capoluogo quattro contrabbandieri e sottoposto a sequestro sei quintali di sigarette. In particolare le fiamme gialle partenopee, nel corso di attività di controllo economico del territorio, hanno notato un furgone che stava entrando in un parco, raggiunto pochi minuti dopo da un secondo automezzo. I finanzieri sono intervenuti proprio nel momento in cui i contrabbandieri stavano effettuando le operazioni di carico e scarico delle stecche di sigarette, scoprendo nei vani dei veicoli commerciali l'ingente carico di bionde del tipo Chip White, marca Regina. Tratti in arresto un 27enne di Cercola, un 30enne di Castellammare, un 42enne di Torre Annunziata e una 30enne di Napoli, sanzionati anche per violazioni alla normativa anti-Covid, poiché si trovavano in un comune diverso da quello di domicilio o residenza, senza validi motivi. Le sigarette di contrabbando, risultate tutte sprovviste del contrassegno di Stato, se messe sul mercato illegale, avrebbero fruttato introiti per circa 250.000 euro. Quest'operazione anti-contrabbando è frutto dell'intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e di prevenzione dei rischi unissi alla pandemia da Covid-19, organizzati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, anche in vista delle imminenti festività pasquali. Salgono i casi di contagio da Covid-19 in Italia. Nel bollettino di ieri, quasi 24.000 casi e 500 morti. Arrivate oggi oltre 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca. Dopo i nuovi aggiornamenti, l'Istituto Superiore della Sanità porterà al possibile cambio di colori di alcune regioni. Lombardia forse zona rossa anche dopo Pasqua. Campania verso la zona arancione da martedì. La Sicilia rischia la zona rossa dopo il caos contagi. RT nazionale scende allo 0,98. Da domani, per il weekend di Pasqua, 3, 4 e 5 aprile, tutta Italia in zona rossa. Speranza su riaperture. Non c'è una data, ma sono ottimista. Nelle ultime ore, record di vaccinazioni anti-Covid in Italia. 282.000 in un giorno, ma le regioni lanciano l'allarme per le dosi che scarsiggiano. Anche se in Campania, domani saranno consegnate altre 34.500 dosi di vaccino Moderna, destinate in gran parte ai medici di base della Campania, per fare le somministrazioni ai propri pazienti in studio o a casa per chi non può camminare. In questo modo, sarà ampliato il bacino dei medici di famiglia che stanno vaccinando i propri pazienti. Complessivamente, in Campania, sono stati vaccinati con la prima dose quasi 610.000 cittadini. Di questi, 250.000 hanno ricevuto la seconda dose. Arrivano per la prima volta anche i dati delle vaccinazioni a Torre del Greco, eseguite alla Santissima Trinità. Si contano 2.104 dosi ai cittadini d'età superiore agli 80 anni, 52 per quelli d'età compresi tra i 70 e i 79, 1.394 dosi al personale docente e non docente, 102 ai soggetti fragili, 61 dosi alle forze dell'ordine, 5 dosi ai caregiver e 4 dosi ai disabili. Numeri che nei prossimi giorni potranno salire. Si avvicina la Pasqua, la seconda dell'era Covid, una nuova Pasqua blindata. A me mi dispiace che io, per esempio, al giorno di Pasqua non si fanno quelle belle tradizioni come erano prima. E poi per voi ragazzi che stanno tutto chiuso per il lavoro, per tante e tante cose, delle povere persone che hanno perso il posto di lavoro. Io mi auguro che andremo sempre più avanti, più buono e più, diciamo, aprire le porte a tutti quanti. Perché la tradizione è che non c'è più l'acqua santa che vi danno, non vi danno più la palma, non si fanno una chiesa. E questa è la tradizione mia, che va dalla mia tradizione, non questa è della generazione adesso, quella vecchia, che era proprio la tradizione. Tutti quanti in casa, in famiglia, sia quando è Natale, sia quando è Pasqua. Ringraziamo i signori che ci siamo e auguro una buona Pasqua a tutti i cittadini torresi e all'amministrazione comunale che la colomba pasquale li possa ispirare a una migliore amministrazione torresi che non ha tanto di bisogno, di cui i cittadini hanno necessità in tutte le sue cose, sia nei sussidi, nei ristori, in tutte le cose per poterci far vivere e migliorare per un poco tutti i marittimi. Il pensiero va anche a loro che lavorando stanno lontani da casa anche in questi giorni di festa? Sì, il pensiero va appunto soprattutto ai marittimi che lasciano la famiglia, i figli, i genitori diciamo in questi giorni di festa lontane e da sempre il Torre del Greco si priva dei migliori suoi uomini per alimentarsi. Auguri non solo ai torresi, auguri a tutto il mondo perché pare che questa pandemia che a mio avviso non sia una pandemia ma un'endemia al che è diverso possa scomparire con l'aiuto di persone intelligenti che ci aprano gli occhi e che ritorniamo al nostro ritmo normale di vita. Come rascorrerà lei questi giorni di festa? In casa come l'anno scorso giustamente noi rispettiamo le regole il problema è che gli altri non rispettano le regole capisco anche che gli italiani sono stufi di stare a casa. È un modo anche per, anche se raccolto in casa per rinnovare le tradizioni culinarie o religiose che siano? Sì, certamente perché stando in casa uno ha imparato anche a fare le passiere il casatiello sì, sì anche questo rispetteremo anche quest'anno la tradizione. Cosa augura ai cittadini in vista della Pasqua? Parte la serenità in tutte le famiglie ma soprattutto la libertà perché non ne possiamo più soprattutto i bambini che stanno affrontando una situazione non semplice perché per noi adulti non è semplice sicuramente non sarà semplice neanche per i bambini perciò la libertà. Si avvicina il giorno di Pasqua la seconda di adera Covid come rascorrerà lei questi giorni di festa? In famiglia sicuramente e poi assisto mia madre che ha avuto un incidente e quindi ancora di più un momento insomma proprio di unione familiare e così purtroppo non si può uscire non si può andare in nessun luogo e quindi saremo in casa. Un'opportunità anche per rinnovare le tradizioni quindi la solito pastiera casatiello assolutamente quello è certo quello è un classico che non deve mai mancare assolutamente e cosa auguro ai cittadini un messaggio di auguri alla gente? Guardi auguro che allora auguro a tutti una serena Pasqua innanzitutto e poi soprattutto di stare molto attenti perché questo virus è talmente virulento che può uccidere qualsiasi essere umano. Dico la verità molto tristi sperando che la situazione si migliorerà per tutti quanti per questa situazione della pandemia che se migliori saremo come prima di abbracciare i nostri nipoti le mie fratelli le mie sorelle che stanno tutti quanti fuori sto soffrendo molto per questa situazione vi auguro buona a tutti una buona Pasqua che passi presto questa pandemia e dobbiamo anche noi nel nostro piccolo dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per limitare al massimo il contagio insomma perché qui a Torre del Greco non mi sembra che tutti abbiano recepito in maniera corretta il messaggio comunque l'augurio è quello di fare in modo insomma che questa pandemia tra vaccinazioni e misure di prevenzione corrette possa passare il prima possibile impegno in trasferta per la Turris attesa nella giornata di domani dal match contro il Teramo la squadra di Torre del Greco cercherà la vittoria per continuare a tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione dove il pareggio casalingo nel turno precedente contro il Catanzaro servirà una squadra più concreta rispetto a quanto visto domenica scorsa quando i corallini sfiorarono addirittura il colpaggio nelle ultime uscite in particolare il gioco è appasso in evoluzione ma resta da migliorare l'efficacia del reparto offensivo l'ultimo step per raggiungere la consapevolezza di poter centrare l'obiettivo che ad inizio stagione sembrava alla portata e che si è complicato nel girone di ritorno anche la squadra ospite palesa diversi problemi in attacco con i soli 32 gol in attivo ma sicuramente la classifica sorride in maniera più netta gli abruzzesi infatti sono all'ottavo posto con 42 punti in castaforte ma vorranno sicuramente rifarsi dopo le tre sconfitte consecutive il regalo salvezza tuttavia potrebbe arrivare anche in maniera anticipata ed in attesa molto dipenderà dalla Cavese tenendo conto infatti dei criteri di retrocessione anche qualora i Corallini perdessero tutte le restanti cinque partite e finissero quartultimi disputerebbero l'eventuale spareggio solo se la Cavese riuscisse nella rimpresa di racimolare 11 punti nelle ultime sei partite buona notizia che potrebbe arrivare a poche settimane dal termine del campionato slittato secondo l'ultima decisione della Lega Pro al prossimo 2 maggio data in cui la Turis si spera potrebbe festeggiare la sua permanenza nel professionismo grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484 grazie e buona Pasqua da tutta la redazione di TV City e buona Pasqua